Ciao e benvenuto a questo nuovo video, un video sull'invecchiamento. Poco fa, leggendo una notizia sui giornali dove si voleva promuovere un invecchiamento attivo nel movimento, mi son detto che proprio non ci siamo. Ma perché? Come puoi tu promuovere un invecchiamento sano se già definisci il tuo progetto invecchiamento? Ed è proprio lì quello che non funziona, la parola invecchiamento, la parola vecchio, invecchiare. Noi invecchiamo perché noi crediamo di invecchiare, è molto semplice. Iniziamo dunque con il togliere dal nostro vocabolario la parola vecchio, invecchiare. Quando un anziano ha anche questa parola possiamo anche tollerla. Non è necessario parlare degli anziani, si può parlare di un essere umano, del signor Giovanni e del signor Paolo. Quando Paolo e Giovanni si recano dal medico, gli dicono che ormai è normale. C'è l'artrosi, l'artrite, sono problemi della vecchiaia. È tutto normale. Dunque noi accettiamo ad un certo momento della nostra vita un normale decanimento del nostro corpo. Ma nella pratica è davvero così? È inevitabile il decanimento del nostro corpo che comporta dolori e grandi sofferenze? Io non la penso in questo modo. Difatti, iniziando a togliere dal nostro vocabolario, come l'ho detto prima, la parola vecchio, vecchia, invecchiare, invecchiamento. Noi la sostituiamo dalla parola giovane, forte, in piena salute. Io mi sento bene, io risolvo questo piccolo fastidio in poco tempo. E' dunque essenziale fare attenzione alle parole che utilizziamo. Io ho iniziato a rifiutarmi di parlare di vecchiaia, di invecchiamento, di pensionamento, di pensioni. Vivo nel qui e ora, nel momento presente. Faccio quello che faccio ogni giorno nel miglior modo che mi è dato di fare, che è quello della mia capacità, della mia maestria attuale, che sicuramente fra vent'anni sarà ben diversa, probabilmente migliorata. Dunque, prima parentesi chiusa, stiamo attenti al vocabolario che utilizziamo, perché noi, parlando di noi nei termini di vecchio e di invecchiamento, parliamo di noi, parliamo delle nostre cellule, che ci ascoltano e che dunque si programmano per essere vecchie. Loro, già adesso, inizieranno a sentirsi vecchi, logorate e inizieranno ad invecchiare, perché tu ti proietti nella vecchiaia. Mentre se tu parli di te in un modo forte, in un modo frizzante, giovanile, se tu senti di avere l'età di un 25enne e così vivi le tue giornate, come lo fanno molti dei centenari e ultracentenari su questo pianeta, ebbene tu sei effettivamente giovane e il tuo fisico, il tuo corpo, le tue cellule avranno un'età ben diversa da quella tua anagrafica. Puoi credere a questa visione che ti sto proponendo oppure puoi credere che tu invecchierai, che avrai l'artrite, l'artrosi e che è inevitabile, che non puoi fare altro. Hai una scelta dunque. Con questo video io ti apro una nuova possibilità di vedere il tuo futuro in un altro modo, di non vederci né una pensione né un vecchio con il bastone che si muove, ma una persona in piena forma e in piena salute. Bene, io sono felice che tu hai guardato questo video fino adesso, ti invito a iscriverti a questo canale che apre una nuova visione della nostra umanità e di noi umani per sentirsi sempre meglio, per sentirsi sempre più in salute, per sentirsi più felici alla fin dei conti, perché una salute buona è molto importante. A partire da lì puoi costruire, sperimentare qualsiasi cosa che vuoi. Metti il like al video e condividilo. Fai conoscere questo canale alle tue amiche, ai tuoi amici. Certo. Certo che se cambiamo qualcosa nella nostra vita, qualcosa cambierà. Puoi scegliere. Chi è dato il libero arbitrio. non ci sono scuse, non ci sono alibi. Tutto è nelle tue mani. Se non hai le mani nei tuoi piedi è sicuramente nelle tue capacità. nel tuo stato naturale d'essere umano di crescere, migliorarti e sorpassare qualsiasi difficoltà se possibile con il sorriso. Haug, ci vediamo per un prossimo video, per una prossima riflessione e per nuove vie da percorrere insieme. Un abbraccio ancora. Ciao. e forza, forza andiamo nella direzione che sta di fronte a noi con grande fede, con grande coraggio, con grande slancio che viene dal cuore, che viene dalla nostra energia che ci compone e che compone tutto l'universo. Questa energia è omnipresente, è ovunque ed è dentro di te e ti permette di sperimentare ogni giorno qualcosa di nuovo che arricchisce la tua vita. Grazie.